L'elettrodotto Villa Santa Maria a Roccavivara sarà modernato. L'infrastruttura trasporterà l'energia dai campi eolici di Edison, rifornendo una gran parte dei comuni interni abruzzesi. I dettagli del progetto devono ancora essere definiti, forse l'opera potrà rientrare in quelle per la transizione ecologica previste nel PNRR. Ma ad ogni modo l'adeguamento tecnico non ricadrà sulle casse abruzzesi. Sarà finanziato da Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica. L'energia rinnovabile in Abruzzo è talmente tanta che il problema è rappresentato dal trasporto. Da qui la progettazione di questo intervento, come spiega l'assessore regionale all'ambiente Campitelli. Esatto, proprio per questo è un'infrastruttura che poi ha una finalità di pubblica utilità, perché riguarda tutta la provincia di Chieti, gran parte della provincia dell'Aquila, quindi interesserà più che la metà dei cittadini abruzzesi. Oggi noi abbiamo un problema, che ci sono diversi produttori di energia verde e produttori di energia rinnovabile che poi non riescono a immettere in rete l'energia che producono. Quindi un intervento del genere serve proprio per aumentare le prestazioni da parte di energia green, quindi poter mettere più energia verde all'interno di una rete già esistente. Una rete che provoca oggi disagi, microinterruzioni, quindi disagi per i cittadini, che in futuro sarà quindi una rete migliorata dal punto di vista prestazionale, dell'efficienza, dell'efficacia e che non produce più in microinterruzioni disagi ai nostri cittadini. E ci aiuta anche a poter raggiungere in modo graduale quell'obiettivo importante sulla transizione energetica. Tutti ne parliamo, però poi bisogna calare a terra i progetti con atti concreti per raggiungere quegli obiettivi importanti anche sulla neutralità climatica. Ci tengo a sottolineare che gli interventi saranno sulla infrastruttura esistente, non ci saranno nuovi percorsi, nuovi elettrodotti e quello esistente che andrà migliorato.